23 giugno 1946 De Gasperi firma un accordo con il ministro belga Van Acker che prevede l'acquisto di carbone a un prezzo di mercato favorevole in cambio dell'invio in Belgio di 50.000 lavoratori italiani destinati al duro e pericolosissimo lavoro in miniera Fra il 1946 e il 1957 in Belgio arrivano 140.000 lavoratori italiani Il contratto prevede 5 anni di miniera con l'obbligo tassativo, pena all'arresto, di farne almeno uno Nel 1948 verranno finalmente abolite le discriminazioni di trattamento fra operai italiani e belgi